Domenica 6 ottobre è l'occasione per Caminandos, una camminata che va a dare valore a quello che è il sentimento che ci lega all'Ottobre Rosa. Teniamo alta la prevenzione attraverso questa camminata, attraverso le tante iniziative che si promuovono in questo mese e gli ringraziamenti particolari dell'amministrazione vanno a CSI, Andos e Rion del Basel che non mancano mai di collaborare con l'amministrazione e per coinvolgere i nostri cittadini. Sono molto felice dell'opportunità di avere questo bellissimo incontro della Caminandos del 6 ottobre perché oltre a essere un momento di condivisione, di stare insieme tra le socie, i loro familiari e le amiche e passare una mezza giornata in allegria, ma anche perché questa camminata mi dà l'opportunità, diciamo su larga scala, su un pubblico che non è il mio pubblico, non sono le mie socie usuali, ma anche persone non di Andos, di ribadire l'importanza dell'adesione agli screening oncologici. Come tutti sapete Ottobre Rosa è, in paesi più civili del mondo, un mese intero, non un giorno, un mese intero dedicato all'educazione sanitaria e alla prevenzione dei tumori femminili. Quindi vogliamo dire ancora una volta che è molto importante che le donne aderiscono agli screening oncologici perché questi portano molto spesso a una diagnosi precoce e a salvare tante vite in più. L'Aion del Basella è impegnata sul territorio con diverse attività come quella di Cammin Andos e noi dobbiamo ringraziare il centro sportivo Andos e il comune per fare rete, perché questa squadra è vincente, siamo arrivati alla stessa edizione e quindi ci auguriamo di poter continuare anche nel 2025. Siamo onorati di partecipare a questa camminata che si sfoggerà domenica 6 ottobre con partenza da Piazza San Giorgio e una camminata non competitiva sulle mura di Ferrara. Alle 9.30 prima della partenza ci sarà un insegnante di Pilates a fare un po' di sveglio muscolare e ci sarà un rinfresco per tutti e gadget per tutti. Grazie.